6 mezzi navali impiegati in tre diverse emergenze, 30 uomini e un can abilitato al salvataggio in mare. Sono questi i numeri messi in campo sabato mattina per un'esercitazione che per la prima volta sul territorio fanese ha coinvolto per il soccorso in mare anche il comitato di Croce Rossa. Un fuori programma per i numerosi bagnanti e diportisti che, incuriositi da sirene, lampeggianti, fumogeni e razzi rossi, hanno assistito alla simulazione coordinata dall'ufficio circondariale marittimo di Fano. Nel tratto di costa antistanti il Lido e la Sassonia, dalle 10.30 sono stati impegnati i militari della Guardia Costiera, il personale del CB Club Mattei, la Società Nazionale di Salvamento, sezione di Fano, i cani del Sierra Rescue School, K9, Mare Dentro e il Comitato di Croce Rossa. Oltre agli enti e alle associazioni coinvolte hanno avuto un ruolo fondamentale i figuranti e i mezzi messi a disposizione dal club nautico Viviani e dal circolo Windsurf. L'esercitazione ha avuto lo scopo di testare comunicazioni, mezzi e risorse, nonché i tempi di intervento operativo allo scopo di ottimizzare tutte le risorse a disposizione. In caso di emergenza, questo è il numero blu della Guardia Costiera da contattare, il 15.30. Una chiamata di soccorso è arrivata ieri pomeriggio alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro. Dall'altra parte del telefono, la voce di una donna disperata che chiedeva aiuto ai militari. Suo figlio, Maurizio Zanzani, di 16 anni, non dava più segni di vita dopo un bagno avvenuto a 12 miglia a largo di Pesaro. La famiglia era partita dal porto di Rimini insieme a una coppia di amici per dirigersi alla piattaforma nelle acque antistanti la città. Poi, dopo un tuffo e un'immersione in apnea intorno alle 15.30, il minorenne non riemergeva più dall'acqua. All'istante sono scattate le operazioni di ricerca e soccorso della Capitaneria con una squadra di operatori della Croce Rossa Italiana. Giunti sul posto è stato effettuato il trasbordo sulla motovedetta del giovane nuotatore, che nel frattempo era stato recuperato a bordo del gommone dai suoi familiari. Il ragazzo, residente a Rimini, è stato trasportato fino al porto e poi in ospedale da un'ambulanza del 118, stato chiamato in banchina, nonostante tutti gli sforzi compiuti dai soccorritori e dai genitori del giovane i sedicenne, è deceduto per cause ancora in corso di accertamento da parte della Guardia Costiera sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria.